Ciao ragazzi, bentornati nel canale, quindi benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi voglio mostrarvi e insegnarvi un effetto che è davvero affascinante, molto semplice da svolgere per noi prestigionatori, ma pensate, l'ho trovato in un libro di Carl Fulves dove veniva venduto, veniva spacciato, passatemi il termine, come effetto antimago, quindi comunque ha un qualcosa di veramente molto complicato per gli occhi di uno spettatore. Si tratta di un ritrovamento veramente molto interessante, perché come in molti effetti che vi porto anche questo, il mazzo viene mescolato dallo spettatore, viene tagliato dallo spettatore, noi apparentemente non avremo nessun punto di riferimento, quando in realtà poi vedrete per bene nel tutorial. Fatto sta che poi al termine faremo fare delle scelte allo spettatore, scusatemi se lo sto ripronunciando molte di volte, ma al termine noi riusciremo a ritrovare appunto la carta da lui scelta mentalmente, perché comunque la carta sarà scelta mentalmente. Non voglio spiegarvi molto altro, perché ho veramente piacere che vi godiate appunto la performance, quindi non voglio aggiungere appunto nient'altro. Io vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto questo video, e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come MarcoMagicPaolucci. Detto questo io vi lascio la mia intro, e ci vediamo subito dopo per la performance e per il tutorial. Buona visione ragazzi! Buona visione! Ciao ragazzi e ciao Alessia! Ben tornata nel canale, grazie ancora una volta per essere qua insieme a noi. Pronta per l'effetto di oggi? Pronta! Ok, allora come prima cosa, come sempre ormai, come quasi sempre specifichiamo, ti chiedo di mescolare il mazzo di carta. Come ti riesci? Eh, se vuoi far vedere anche ai nostri amici che hai imparato a mescolare all'americana, questo è il momento buono per farlo. L'ho già fatto vedere. Vabbè, ma ora ti sei migliorata sempre di più, quindi se ti va puoi provare l'americana. No, non ti riesci, vabbè, allora facciamo un finta di tu. Oh! Se fai così non mi riesci mai! No, è scherzo, vabbè. E mentre spiego cosa sta a fare succedere ai nostri amici. L'effetto di oggi è un effetto basato sulla stima, un effetto considerato antimago da Carl Fulves, che è abbastanza semplice da eseguire una volta che si è preso dimestichezza con il mazzo di carte, perché comunque dovremmo essere abbastanza bravi noi a fare un paio di passaggi molto importanti. Tu hai capito qualcosa di quello che ho detto? No, eri concentrato. No, eri concentrato. Comunque ho visto il miscuglio, bene o male è bene o male. Non mi è considerata. Ok, perfetto. Ma no, invece ho visto, perché mentre parlavo con i nostri amici, ogni tanto allungavo l'occhio. Ora ti chiedo di dare anche un taglio e completare. Bravissima. Dopodiché, quello che ti chiedo di fare ora è una cosa molto semplice. Ti chiedo di alzare una porzione di mazzo, che può essere metà mazzo, un po' meno di metà mazzo, quanto vuoi tu. Ok. Di guardare la carta dove tagli. Sì. Quindi poniamo tagli qui, donna di picche, farla vedere in telecamera e riposare il tutto. Ok. Mi puoi confermare che tutte le carte erano diverse? Non so se ti ho mostrato il mazzo di carri, Ah, non l'ho guardata. Ok, guarda, mi giro io, perché non vorrei che proprio più ad occhio qualche carta. Mi puoi controllare che tutte le carte sono diverse? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Richiudo, io non ho visto niente e ora ti chiedo di fare quello che ti ho appena chiesto. Quindi alzare più o meno, alzare una porzione di mazzo, guardarla, a me non me la far vedere, farla vedere anche in telecamera. Ok, io non guardo. Dopodiché la riposi. Ok. Ok, bravissima. E ora guarda, perché per rendere il tutto ancora più difficile, io vado a dare un miscuglio all'americana. Spero mi venga un pochino meglio del tuo. Il mio è perfetto. Questo è perfetto. Ok? Dai, no, 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 scherzo, scherzo. Vado a dare un miscuglio all'americana, in modo tale che io non possa avere nessun punto di riferimento. Ok. Oltretutto, non soddisfatto, vado a dare anche un bel taglio. Anzi, due. Ok? Completamente dispersa la tua carta. Giusto? Ora guarda, quello che vado a fare è una cosa molto semplice. Vado a fare dei mazzetti che sono, a dire la verità, molto diversi da loro, sia dalle carte che lo propongano, che dalle carte che ci sono, che dalla quantità. Qui abbiamo molte carte, qui ne abbiamo pochi, qui ne abbiamo pochi, qui ancora meno, qui ne abbiamo un po' di più. E ora ti chiedo di fare una cosa molto semplice. Non so se mi state seguendo voi amici, te mi stai seguendo per ora? Sì, ok. Ti chiedo di prendere mazzetto per mazzetto e tirare fuori una carta. Quella che vuoi. Il mazzetto che però avrà la tua carta, tu dovrai tirare fuori quella. Ok? Quindi, per esempio, prendi questo mazzetto, se qui non c'è la tua carta, ne tiri fuori quella casuale e la metti qui di sotto. Se c'è la tua carta, tiri fuori la tua carta e la metti qui. l'importante naturalmente è che non mi dici né a me né ai nostri amici che ci stanno guardando qual è la tua carta. Ok? Perché poi quello lo dovrò fare io il trovamento. Vado? Vai, vai tranquilla. Io guardo, ti guardo, guardo i nostri amici in camera, insomma, puoi fare anche una fila, puoi metterla anche una sopra l'altra. Non c'è nessun problema. Come vuoi tu? Ok, bravissima. e nel mezzo cosa posso dire ai nostri amici? Racconto una varzelletta? Esatto, 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 così sono un po' di più, sì. Racconto una varzelletta ai nostri amici, allora, che ci fa una formica in un barattolo di zucchero? Che ci fa una formica in un barattolo di zucchero? la settimana bianca. Che cazzo? Vabbè, questa è una freddura per perdere un po'. Ok. soddisfatta? Sì, abbastanza. Ok, ora? Non mi capirebbe ricordare? No, ora proverò io a ritrovare la tua carta. Ah, ok? Ok. Qui all'interno c'è la tua carta, per forza. Le altre quattro non sono, giusto? Ok. Sì. Aspetta, perché sai, non è proprio così semplicissimo. Devo avere un paio di sensazioni, insomma, devo scoprire un po'. Ok, ce l'ho questa. Non l'ho vista. Vabbè. Che carta avevi scelto? Allora, io intanto la metto avanti, eh, vi dico che è questa qua. Che carta avevi scelto? Red di cuori. Red di cuori. Quindi non era né il nove di picche, né il cinque di fiori, né il tre di cuori, né il dieci di cuori, ma era esattamente, come hai detto tu, il red di cuori. La carta che avevo messo è un disparte rispetto a tutte le altre. Come ho fatto? Non si sa. Lo andiamo a spiegare ora ai nostri amici. Quindi, come dico sempre, uno, due, tre. tutorial ragazzi. Eccoci arrivati alla spiegazione ragazzi. Intanto, se siete arrivati fino a questo punto vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Ora, cercheremo di apprendere questo effetto che, vi dico già, sarà difficile da capire. Parlerò molto perché ci saranno tante variabili in questo effetto ma cercherò di spiegarvelo come sempre nel miglior modo possibile. Quindi, partiamo dalla base. Partiamo dall'inizio. Non abbiamo bisogno di nessuna preparazione del mazzo. Quindi il mazzo può essere tranquillamente mescolato sia da noi che dal nostro spettatore e può essere anche tagliato in questo modo qua. Ok? Non abbiamo bisogno di nessun riferimento quindi non abbiamo bisogno di nessuna carta chiave non abbiamo bisogno veramente di niente. Una volta che lo spettatore è soddisfatto dei miscugli e dei tagli noi lo inviteremo a tagliare una porzione è ricordarsi la carta dove taglia quindi supponiamo come se ora avesse tagliato sul sedicuori. Cosa molto importante noi dovremo tener conto di dove taglia lo spettatore perché come vi ho detto è un effetto basato sulla stima quindi noi dovremo cercare di essere il più precisi possibili nel vedere quante carte taglia il nostro spettatore quindi se taglierà più o meno a metà se taglierà più verso la cima se taglierà più verso il fondo dovrete stare veramente attenti perché poi quando noi andremo a tagliare per mescolare all'americana dovremo tagliare più o meno il solito numero di carte che ha alzato lo spettatore questo è necessario perché avvenga l'effetto facciamo un esempio pratico ragazzi e cercate di seguirmi il più possibile supponiamo lo spettatore taglia in questo punto qui quindi sulla regina di picche guardate bene quante carte sono ok quindi qual è la porzione che taglia una volta che lo riposa squadrate e voi a stima dovrete andare a tagliare più o meno il solito numero quindi in questo modo qua ok e dovrete andare a mescolare il più pulito possibile nel miglior modo possibile all'americana i due mazzi quindi cosa molto importante dovete anche saper mescolare molto bene all'americana quindi in questo modo qua ok e chiudiamo il tutto ora arrivati a questo punto prima di eseguire il taglio noi abbiamo due possibilità che la carta dello spettatore si trova già fra le prime carte o che la carta dello spettatore si trovi fra le ultime carte e questo ci serve proprio per fare un paio di tagli per portare più o meno una quindicina di carte dal fondo alla cima in modo tale che in maniera automatica la carta dello spettatore si troverà più o meno da metà mazzo in su quindi ricordiamoci qual era la carta non la sono un attimo dimenticata regina di picche ok e andiamo a vedere dove si trova vedete è in fondo al mazzo questo avviene appunto rispettando tutti i criteri che vi ho detto ora quindi tagliando più o meno alla stima e mescolando nel miglior modo possibile all'americana se avviene questo ci risulta che la carta è o fra le ultime o fra le prime in questo caso fra le ultime come vi ho detto noi non lo sappiamo quando svolgiamo l'effetto se è fra le prime o fra le ultime quindi cosa dobbiamo fare tagliamo più o meno una decina o quindicina di carte e le portiamo in cima al mazzo ora sappiamo per certi che la carta dello spettatore si trova più o meno fra le prime 23 e 24 carte anche 25 quindi cosa dobbiamo fare semplicissimo andiamo a porre un po' di carte a terra magari un bel mazzetto di una ventina di carte e poi le facciamo altri 4 molto più piccoli quindi magari 3-4 carte 5 o 6 altre 5 o 6 e poi teniamo un mazzetto di almeno una ventina di carte centrale ora per forza la carta dello spettatore sarà in questo mazzetto qui tant'è che se ribalto e vado a controllare vedete c'è la donna di picche quindi cosa dovremmo chiedere al nostro spettatore di andare a scegliere una carta per ogni mazzo di andarla a tirare fuori e nel mazzetto che ci sarà la sua carta appunto di tirare fuori la sua come vi ho detto rispettando tutto ciò che vi ho spiegato fino ad ora quindi dal taglio alla stima al miscuglio all'americana al più pulito possibile agli altri tagli di una decina o quindicina di carte portando in cima al mazzo sempre si ritroverà qui la carta dello spettatore quindi sarà carta casuale carta casuale carta casuale carta casuale e qui per forza la carta del nostro spettatore qui non abbiamo altro bisogno di sapere appunto che questa è la sua carta quindi di controllare come vengano richiuse le carte se le vogliamo far richiudere allo spettatore o se no le richiudiamo noi e poi ve la giocate la rivelazione come meglio preferito preferite fatto sta che sapete questa qui è la carta dello spettatore quindi o ribaltate e fate la rivelazione oppure andate a sensazione che non lo so come se volete giostrarvela come effetto di mentalismo qui è a libero piacimento e nulla ragazzi questo era tutto ciò che c'era da sapere su questo effetto antimago di Carl Fulves spero vi sia piaciuto e spero vi sia utile so che nella spiegazione sono stato molto scrupoloso e ho parlato veramente tanto ma ci tengo a precisare tutti i passaggi chiave che dobbiamo svolgere per far sì che ci risulti il più semplice noi possibile che lo andiamo appunto a presentare e a eseguire davanti ai nostri spettatori quindi arrivati a questo punto io come sempre vi invito a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale vi mando un abbraccio virtuale ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video ciao ragazzuoli ciao